Il congresso del PD Irpino si svolgerà il 22-23 aprile. La segreteria nazionale ritiene che si può procedere regolarmente. Le operazioni nei circoli sono a buon punto e niente lascerebbe supporre il contrario, se non per il fatto che una buona parte dei demi irpini, quelli che fanno capo a Umberto del Basso De Caro insieme a Famiglietti e De Luca, quelli che in sostanza sostengono il candidato Michelangelo Ciarcia alla segreteria, non sono affatto d'accordo. E lo strappo, che fino ad ora si intuiva ma rimaneva latente, si è consumato proprio in queste ore. L'altro candidato alla segreteria, Giuseppe Di Guglielmo, ha incontrato la stampa per presentare il programma, anche in vista delle amministrative di giugno. Le fibrillazioni del PD negli ultimi anni o mesi sono sempre all'ordine del giorno, quindi io spero che ci sia un momento di serenità, di unione, di condivisione sui contenuti e su quello che sarà il PD nel prossimo futuro. È una sfida importante, siamo dopo il 4 marzo dove i cittadini già hanno dato una risposta o comunque hanno dato una lettura, una bocciatura se vogliamo dirla così al PD, quindi è importante stare uniti e centrare gli obiettivi. De Caro accusa, qualcuno ha lanciato un'OPA sul PD, vigileremo con cura perché qui manca trasparenza. E aggiunge, non siamo di fronte ad una irregolarità, ma ad un imbroglio colossale. Sarebbe un gravissimo errore, ha proseguito l'esponente politico, accettare questa situazione. Siamo noi il vero PD. A questo punto è chiaro il rischio che questa spaccatura avrà sulle candidature al comune di Avellino e De Caro lo afferma chiaramente. Adesso anche l'ipotesi di una lista civica al 10 giugno è probabile.